Codias tutti che pittano come dei figli di puttana che fa stiglio non deve stare per forte può anche scendere sono sceso mi mette l'ansia quando mi parla mi mette l'ansia raga quando mi parla porco diaz porco diaz però non posso vorrei ma non porno signore merda puttana cazzo è tutto banchato tua madre c'è anche il cazzo tua madre ci sei? guarda e muoio così perché sono un coglio no raga non mi builda indietro non riesco ad andare indietro non riesco ad andare indietro questo nell'acqua amici parco diaz parco diaz siamo in Brasile Brasil e me use l'altresan kill me par da aver ma non va di si strissa il terra al fai scintil Brasil stavata stavata buildi 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 a 600 man io se buildo bene mi uccido ma io se builda male posilipo joele bisetto tommaso carducci mugno di 19 ciao bello buongiorno grazie mille saluto al trio delle meraviglie come la va come la va sei vai con la disco amico perché non c'è un po' di batteria così andiamo a tempo vai vai che bello mutarli ragazzi e poter parlare tranquillamente con voi ecco qua ragazzi 50 anni in due raga eh sono morto sono morto sono morto sono morto parco diaz parco diaz porco diaz lo andiamo a caricare su tiktok allora F non puoi bestemmiare F perché mi shadowbannano vedo proprio la differenza no 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 mi blocchi l'audio per l'amor di dio eh mi blocchi l'audio va bene io ci provo se vuole ok ti blocco l'audio ti blocco l'audio ok ok ma perché lei è su tiktok? sì non rida no mi fa ridere perché la shadowbannano mi shadowbannano ogni giorno perché metto F non è vero ma non la shadowbannano sì sì ma no è vero pizza è vero pizza sto pubblicando tiktok da 20 giorni sì sì ogni volta che metto una clip dove mi parte una bestemmia una parolaccia quelle dopo muoiono anche le parolacce eh non le le domate puttana eh vabbè allora me lo dica se deve far così che io prendo e chiudo tutto assolutamente sì tonne cipolla penso proprio di sì domate quella succhiatrice di crozzo FN zero fretta raga zero fretta calmi 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 merda fiammi sale in macchina allora allora aspetta nooo aspetta 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 ahhh parca di quella puttana non importa 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 doma electromagnetic tendency controllo 있어요 hanno coronavali 鬍 policy AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Broco cazzo il cappolo cazzo il cazzi che- RICO cazzo fa che ripazzo che ripazzo che ripazzo cosa cazzo fa 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 Che t'ho fatto? Ma devi succarmi il cazzo come soffi su quel fottuto sassofono Coglione che ta mace che la buttana salve no people ok ok Inculato bravo Non si sa aveva gesù nella nel mitra questo ragazzo nel mitra e sarà qua Ma che cazzo balli coglione ti trovi in uno più uno ti taglio la colate ci cago in culo e poi te la vado a cucire con Ora però c'è un problema dovrei abbassare i pantaloni Harblax scotrobel Buonissima Allora muffin Io non ti mangerò Aprirò e chiuderò semplicemente la bocca avvicinandomi Se tu rimarrai qui è peggio per te Ma porca troppo Ma che cazzo Ma no questo è diverso Ci siamo fermati un attimino ragazzi Ma è molto buono eh Grazie Ma non lo so se sapessero tutto o meno No ma che No li ho visti un attimino Uno si chiama Antonio Uno si chiama Antonio Antonio il succhiacazzi Antonio il succhiacazzi Sua madre prende i piselli A gruppi di tre Tre Ma specifichiamo che non sono i piselli della Findus Purtroppo no Prende veramente cazzi anche sua madre Allora Andy Per favore Andy Per favore Ho fatto due partite Cristocacchio Siamo morti Subito abbiamo fatto Dacci parchio Dio Infilate nel culo Questo albero ero pronto sono si arriveranno oh 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 che è? fuori! oh! porco dia vai fuori! ciao florix come sai cara? oh mio caro! aiuto aiuto ragazzi dove andiamo? sto andando arrivo arrivo quando hai graccato? che sono i tanti ce la fate? è tosta per un altro è difficile a me sono sceso quello è sicuramente mi sa che c'è gente c'è gente senza il misato c'è gente senza il misato credo? ho sentito un rumore? ok altrimenti prendo il mouse numero uno il mouse numero due li avvicino e me le infilo nel culo se non entriamo porca troia quando faccio l'albero ne sto trovando uno bello appuntito per infilarmi pure quello l'ultimo qua dentro pizzo uno lì ha uno di vita è andato è andato è andato ce l'abbiamo perché mi... e no no l'ho spostata per prevenire che andava non c'è un cazzo niente si fa tutto lui ma non c'è un cazzo ragazzi non c'è niente qua dentro non c'è nulla non c'è niente no si è rovinati avete pure? non c'è un problema